L'AstraZeneca Day è andato benissimo in provincia dell'Aquila con adesioni al di sopra delle aspettative, secondo il direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Asl 1, Domenico Pompei, che si ritiene più che soddisfatto. Un risultato che potrebbe spingere l'Asl ad organizzare altre giornate di questo tipo, sempre se si avranno dosi a disposizione. In tutta la provincia si sono somministrate ieri 1.750 dosi in totale di AstraZeneca, ad over 60 senza patologie, 300 in più rispetto a coloro che nella giornata di sabato si erano prenotati attraverso i comuni e i numeri messi a disposizione. Nel lab di Via Ficara si sono vaccinate 500 persone all'Aquila, 430 erano quelle prenotate, una ventina quelle già prenotate e composta che hanno voluto anticipare, più quelli che si sono presentati senza prenotazione hanno ricevuto comunque il vaccino. A Avezzano circa 400 persone si sono vaccinate nella scuola Vivenza, 470 nel centro Don Luigi Sturzo, a Pescina 160 e a Tagliacozzo 200. Nell'area Peligna, Sulmona e Alto Sangro tutto si è svolto senza problemi. 170 dosi somministrate a Sulmona, 119 a Prato La Peligna, 120 a Castel di Sangro. Oltre ad AstraZeneca in provincia sono andate in giro le unità mobili che hanno vaccinato con Pfizer e dunque alla fine nella giornata di domenica sono stati inoculati ben 2.094 vaccini. La gente insomma ha risposto. Il 29 aprile arriveranno 9.000 dosi di Pfizer, mentre sono già arrivate 900 dosi di Johnson & Johnson da distribuire in tutta la provincia e a giorni si inizierà la somministrazione, raccomandata anche in questo caso a Iover 60. L'aspetto positivo è che dal punto di vista organizzativo è filato tutto liscio, senza intoppi, grazie anche ai tanti volontari che hanno voluto aderire a questa giornata.